Allora, allora, sono preoccupato per Riot, o non sto scherzando, sono seriamente preoccupato per Riot, da quando hanno preso e hanno deciso di essere ragionevoli all'interno di una patch? Allora, già all'ultima ero tipo, ah, non hai fatto tante cose giuste, o ha fatto tante cose giuste, c'erano un paio di stranezze che mi avevano fatto un po' storcere il naso, e inizialmente quando ho letto la patch preview di, non settimana prossima, perché uscirà l'11 di agosto questa patch, ero tipo, che sta succedendo? Allora, ci immergiamo subito e andiamo a vederla insieme, così che capiamo a modo di che cosa sto parlando, perché ragazzi, what the fuck, davvero? Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un bel mi piace, commentate sotto se avete dubbi o domande per quanto riguarda un buffo nerf, se la spiegazione è stata chiara, oppure se volete capire perché non buffano X o Y campione, ditemelo sotto nei commenti. Andiamo a vedere questa patch preview? Partiamo su quello che è il nerf del Darkseal, questo non dovrebbe assolutamente stupire, per un semplicissimo motivo. Il Darkseal stava diventando un oggetto che continuava a prendere priorità nelle build dei maghi, e che concedeva un potere di snowball un pochino più alto della media, invece di essere un oggetto che era una scelta un po', tra virgolette, una scommessa con quello che è il Doran Ring, e quindi l'idea di Riot è il Doran Ring è la scelta standard, e invece il Darkseal dovrebbe essere la scelta un pochino più pericolosa, così non era, e quindi ha deciso di renderlo un pochino più pericolosa, rimuovendo un pochino di potere magico per ogni singola stack, e aumentando il numero di cariche che vengono perse quando muori, in maniera simile quindi al Mejai. Ora, non penso che fosse necessario, cioè piuttosto, aumentare la perdita di stack forse era già sufficiente, però capisco l'intento di andare a fare questo doppio nerf, non penso che perderà troppo valore, sarà comunque un nerf importante a livello totale, ma capisco il perché abbiamo deciso di fare questa modifica. Però per favore potenziate gli altri oggetti da maghi, grazie perché sono messi una merda. Per chi voleva vedere magari una modifica del Fleet Footwork dovrebbe aspettare un'altra patch, quindi quella del 25 di agosto, perché a quanto pare non la vedremo fino ad allora. Mentre invece la redenzione vediamo la cura aumentare di 20 HP sul valore base, 40 HP sul valore massimo, 30 secondi cooldown in meno. La redenzione è uno di quegli oggetti che ormai viene totalmente ignorato come seconda opzione per i supporti, per gli enchanter si sta parlando, per quanto poco si vedono in giro, e di conseguenza andarlo aiutare a potenziare... L'intento è uno, è semplicemente prendere e dire ragazzi buildatelo un po' più spesso per favore perché non lo state buildando più nessuno. Penso Shending Help, che è un challenger shen top lane che gioca anche su porto o anche jungle, lo gioca in ogni modo e forma, penso che sia l'unico che lo utilizzi e quindi lui sarà tipo yeeeh, viva! Ah, si chiama Shending Help, Shending Help, Shending Help, è gioco in parole, è quello. Molto sensato, anche questo, sono tipo già confuso qui e spaventato, ma non siamo neanche arrivati alla parte più importante. Arriviamo ai nerf, per Diana la riduzione dei danni sui mostri dalla passiva può sembrare come poco, perché uno dice, vabbè ma non stai nerfando nessuna delle cose forti di Diana, cioè quella di poterti aggredire tranquillamente e uccidere e bastarti. Vero, assolutamente vero, non stanno toccando quello perché quella parte di Diana la vogliono mantenere intatta, ma non vogliono permettere a Diana di essere anche un jungler che è estremamente sano e che funziona in maniera estremamente efficace. Per quale motivo? Perché Diana attualmente è uno dei jungler che può fare un full clear completo e che non viene assolutamente punita per questa cosa, non arriva in ritardo ai buff, non arriva in ritardo agli scattole, quindi diventa un pochino difficile gestire per gli altri jungler che non possono tenere lo stesso ritmo. Per Fiora, vedere il cooldown della E come essere l'obiettivo del nerf, ero tipo, ok, capisco l'idea, speravo in un nerf diverso, speravo in una riduzione del danno della passiva, è un buon modo per non renderla questo mostro che non puoi kaitare, immagino, tanto non la puoi kaitare comunque, eeeh, tipo, è ok come modifica, mettiamola così, è ok, poteva essere ben peggio. L'omnimamp ridotto a Lee Sin, capisco anche quello, con l'intento di andare a smuoverlo dalla top lane come pick dominante a prescindere, perché hai tolto il potere di clear, hai tolto un potere di trade con la E, e adesso stai cercando di dire zio vattene dalla top lane. Ridurre l'omnimamp è uno dei modi più efficaci per farlo, forse, eeeh, avrei, avrei magari nerfato piuttosto ancora di più quel clear riducendo i danni sui minion della E, ma bastava quello, ma bastava letteralmente quello. Passiamo alla seconda metà dei nerf, che molti considerano che non sono stati sufficienti. Vedete Lulu con il cooldown aumentato di un secondo e letteralmente un, ah, ok, avete rimosso il buff che le avete fatto qualche mese fa, che l'ha riportata ad essere forte, e, ah, avete rimosso il buff sul cooldown della ulti, che l'ha portata ad essere forte? Già, questo non farà alcuna differenza, come direbbe qualcuno su internet. Lo sapete quante persone mi hanno già scritto dicendo, ah, ma quello non basta per nerfare Lulu? Certo! Caro estraneo! Vorrei darti ragione, ma non posso! Perché hai torto! Andiamo avanti! Tamkench Toplane è stato un problema abbastanza peculiare da affrontare, lo bannavi e basta, molto semplice. Vedere ridotto il danno della sua passiva, ok, in early game, vedere ridotto anche la cura in early game, su quei primi rank up, su quel valore flat, mi fa capire che la Riot, penso, non abbia idea di come mettere Tamkench in una situazione sicura per funzionare. Vediamo! Stiamo cominciando a vedere anche dei Tamkench support in competitivo, quindi ho come la sensazione, effettivamente il rework stia funzionando, ma allo stesso tempo sia così strano che dobbiamo ancora abituarci. Probabilmente in competitivo rimarrà forte come support, a prescindere perché adesso è un support che non soffre la RAS, è una frontline che può ingaggiare e quindi sei tipo, shit, funziona anche support tecnicamente. Non mi aspettavo funzionasse così bene come in competitivo, però vedremo, vedremo, sono i primi dati, sono i primi giorni di competitivo in cui lo provano e sta trovando discreto successo. Vediamo col tempo, con molta calma. Xin Zhao, vedere da 66 AD a 63 AD, è uno di quei classici nerf sui valori numerici che sembra così banale, poi ti ricordi quante volte autoattacca Xin Zhao, cioè tutto il suo danno è basato sul fatto di autoattaccare tanto e continuare a autoattaccare. La E ti dà attack speed, la Q, sono tre autoattacchi potenziati. Certo, la W è la tua spell chiave, assolutamente, che comunque scala con la D e quindi avere tre AD in meno è comunque un nerf diretto anche a quella. Penso che la gente sottovaluti quanto 3 AD possano rimuovere in giungla a livello anche di tempistica di clear, rendendo ancora più accentuata questa debolezza, che è una delle sue poche debolezze, il fatto che clear alla giungla è veramente una merda. E... non lo so, ho come la sensazione... faccio anch'io fatica un po' a percepire quanto possa essere differente. So che impatta ogni singola spell, allo stesso tempo finché non lo provo sulla mia pelle mi astengo non dal giudicare se è un forte nerf, perché è effettivamente un forte nerf, questo proprio a livello numerico si può dire, ma non so se basta per portare la gente a smettere di giocare Shinjao perché lo percepisce come troppo debole. Penso piuttosto che si accentuerà quella categoria di giocatori che gioca estremamente aggressivo con Shinjao è che l'unica cosa che fa è fare tipo un paio di campi, gancare, un paio di campi, gancare, un paio di campi, gancare. Cioè non puoi più scegliere come giocare dipendentemente dalla situazione, quindi quelli che giocano estremamente aggressivo subiranno la differenza ma di meno, e quelli che invece giocano in maniera adattiva con Shinjao lo sentiranno molto di più questa modifica. Per chiudere, anche quelli che lo giocano aggressivo lo percepiranno comunque un pochino più debole, perché 3 AD suonano poco e lo sentirai come meno punitivo perché potrai snobolare di più se giochi aggressivo, ma poi più va avanti la partita e più danno andrai a perdere nel tempo con quei 3 AD in meno. Per quanto può suonare solo come 3 AD, non mai sottorutare un nerf del genere, mai. Ziggs gli ridanno il mana di base di 480, ma decidono di nerfare quello che è il campo minato di Ziggs mettendo più danno nella fase finale della E, quindi cosa vuol dire? Il quinto rank della E fa 10 danni in più, ma in early game fa 10 danni in meno. Non solo il rallentamento è più debole, passa da 30-50% a 10-50%, quindi ogni rank up aumenterà lo slow della E di Ziggs. Quindi una buona idea per rimuoverlo da quello che è la corsia inferiore. Non penso che andrà a impattare esageratamente tanto sulla mid lane. Impatta quando sei contro campioni aggressivi, contro altri maghi. Non è che sei triste, ma tanti maghi giocano comunque ancora a scatto fasico. Certo, esiste anche l'Eletroshock, assolutamente, anche Comet e quant'altro, ma non è questa la situazione in cui se ne parla. Andiamo avanti con i buff ai campioni. Allora, passiva di Jarvan viene potenziata dall'8 al 10% del danno della vita attuale. comprensibile, visto che letteralmente Jarvan fa schifo, è tremendo, è letteralmente uno dei jungle peggiori del gioco, non ironicamente, è proprio agghiacciante. Anche il bonus ratio AD della Suprema viene alzato da 150-180%, quindi le build più aggressive vengono premiate. È una situazione strana per Jarvan, è tipo lì che comincia a trovare dei trade tipo insanely good, con questi buff, e poi penso, chi metterei al suo posto? E tipo c'è una lista della spesa di campioni? Non lo so, continuano a buffare i suoi numeri quando Jarvan è proprio tipo la cluster, cioè l'unica cosa che porta è il flag and drag che è tipo standardo, lancia e tipo, ok, è buono, ma non, wow, ne aveva comunque bisogno. Campione che non ne aveva bisogno, invece era Jin, vedere 10 danni in più sulla W, è strano a dir poco, il danno minimo di un Proietti della Suprema che passa da 20% a 25% con ratio AD. Perché? Non è messo male, Jin, però perché? Vedremo poi in futuro, immagino, se ci sarà una skin magari, che cacchio ne so. Maokai, questi molti l'hanno letto come un nerf, perché ormai l'identità di Maokai è quella di un supporto che lancia sapling e continua a fare danno con quelli, vedi lo scaling ridotto sul potere magico e il danno base ridotto di 5, e pensi, ok, l'hanno nerfato anche pesantemente per il ruolo di supporto che continua a spammare Sapling. Sì, assolutamente, ma hanno potenziato quello che è il suo sustain in fase di corsia, aumentando da 5-13% a 7-15%. Ricordiamo, la cura della passiva è una porzione della sua vita. Non è una roba da poco, soprattutto con campioni che spammano tante spell. Andare a potenziare il sustain sembra sempre una cosa banale, e poi ti rendi conto che quando Maokai prende un minimo il controllo della situazione in corsia non puoi spammare spell perché sennò continua a curarsi e sei tipo là e dici se spammo spell per danneggiarlo lo curo e se non spammo spell per danneggiarlo mi ammazza. Che cacchio faccio? Spoiler. Prendi schiaffi. Quindi è quel classico buff che probabilmente metterà un po' in difficoltà le persone perché continueranno a giocarlo su porto invece che giocarlo top lane o jungle e potrebbe essere positivo. Non penso fosse necessario rimuovere quel danno della E considerato quello che è la situazione attuale di Maokai che è tipo lì sotto che piange e soffoca nel suo vomito mentre è disteso sul fianco. Non so come un albero possa vomitare ed essere disteso sul suo fianco. Beh, il fianco di un tronco esiste. Però sì, questa è l'immagine di Maokai se qualcuno ha voglia di disegnarlo per inquietare tipo il mondo prego, è il benvenuto a farlo. Anche su questa parte ho sentito un sacco di opinioni molto interessanti e molto pratiche di come funzioni Nunu. Allora, sul 5 di Moometspeed di più quello è un grosso buff, c'è poco da dire. Quello è un grosso, grosso buff e questo è proprio... non si può nemmeno dire no, guarda, non è un... no, 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 questo è proprio forte come buff comprendo che Nunu non sia in una situazione fantastica non è che io sia emozionato di rivedere Nunu in giungla. Sul danno della E che molti sono triggerati perché passa da 54% del potere magico a 90% del potere magico. Allora, di base Nunu non builda potere magico. Sì, è una statistica con cui scala ma non è qualcosa che vai a fare molto spesso almeno se... se escludiamo Fieric almeno siamo sicuri ma penso Fieric sarà ben contento di questo buff. Serio, vedere quel danno in più perché ricordiamo come funziona la E di Nunu. Nunu lancia 9 palle di neve e tu fai ta 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 ta. Ogni palla di neve cosa fa? Scala con il 9% con il 6% perdonatemi del potere magico e adesso cosa scalerà? Scalera con il 10% del potere magico ogni singola palla di neve. Le palle di neve sono degli skillshot tu puoi effettivamente mancare queste palle di neve. Non solo, tu di solito non vai a buildare AP quindi è un modo per dire se volete giocare una build for fun potete farlo ma non penso che sarà quella che andrà a dominare la landa. È un aiuto, è una spintarella che, oh, male non gli fanno, ne ha bisogno. Ora, molti erano tiltatissimi dal buff di Shaco comprensibile. Contesto, perché lo spiegano anche qua ma lo spiegano un po' male. A Shaco gli faranno dei bug fix uno e uno è il fatto che vanno a rimuovere quella che è il mostrare la Q di Shaco l'animazione in cui lui scompare con un fumetto arancione quando è nell'ombra di guerra che è stata una cosa che è stata reinserita nella patch 11.15 Infatti, nella patch 11.14 era stato nerfato nella 11.15 gli avevano fatto un hotfix se ricordo bene le date correttamente e le patch correttamente comunque aveva subito una serie di modifiche di recente prima dei nerf e poi anche nella 11.15 questo hotfix questo bug fix che andava a riparare un problema di Shaco Shaco una volta mostrava questo fumo arancione quando partiva da un bush se tu non avevi visione di bush potevi comunque vedere questa animazione partire così che avevi un leggero avvertimento su quando Shaco ti stava per gancare questa cosa non funzionava da un bel po' di tempo l'avevano riparata nella 11.15 e Shaco ha perso il 5% di win rate in giungla e il 4-3% di win rate se non ricordo male sulla bot lane come supporto adesso cosa fanno? vanno a fare ulteriori bug fix su alcune delle funzionalità di Shaco e rimuovono questa cosa dell'ombra quindi non vanno a buffarlo effettivamente semplicemente lo riportano ai canoni precedenti a quello che è stato l'inserimento del bug fix da 11.15 che comunque vuol dire un 50% scarno in win rate assolutamente è frustrante nessuno nega questa cosa non lo considererei nemmeno come un vero e proprio buff è semplicemente un riportarlo alla situazione di prima e basta però sono sicuro che qualcuno mi flammerà per questo Sivir aumenta lo scaling della diratio della W questo è molto buono perché è una di quelle spell che permette a Sivir di manipolare le ondate di minion e le permette di controllare quindi la situazione della fase di corsia per il competitivo questo è molto importante penso sia meno importante per quanto riguarda invece la maggior parte di noi questo non è neanche una patch che verrà giocata in competitivo in tempi brevi quindi è tipo è un peccato che sia arrivata in questa patch quindi lo vedremo in mondiali questa grossa modifica per noi giocatori è tipo non è male assolutamente però non è neanche wow potrebbe essere questa la patch che si gioca nei playoff non è ancora confermato se è 11.15 o 11.16 lo scopriremo soltanto poi quindi vedremo e poi si conclude con Vladimir che vanno a potenziare la passiva in una maniera intrigante mi piace l'idea perché questo va a potenziare quello che è lo scaling di Vladimir cioè non va a potenziare una fase iniziale o centrale di partita di Vladimir ma le fasi più avanzate quindi quando tu ottieni statistiche quando ottieni risorse va a premiare quando tu ottieni un vantaggio e uno può dire ok Lapo ma quindi in soldoni che cosa cambia Vladimir quando tu ogni volta perché per chi non sapesse come funziona la passiva ogni volta che ottieni potere magico ottieni degli HP e quando tu compri degli HP dagli oggetti dalle rune e quant'altro ottieni del potere magico queste cose non sinergizzano quindi c'è proprio un hai X HP bonus bene si trasformano in Y potere magico dagli oggetti rune cose buff eccetera eccetera hai Y potere magico e viene trasformato in tot HP che non vengono contati perché sennò sarebbe un loop infinito in cui continui a potenziarti e non finirebbe probabilmente prima o poi non sono bravo in queste cose cicliche in cui devi continuare a controllare avanti e indietro come loop di feedback si chiama però vabbè lasciamo perdere non sono abbastanza pratico di queste cose concludendo il discorso quindi Garant 1 additional IP per 40 ogni per ogni 30 HP per 30 HP bonus ottieni uno di potere magico quindi cosa succede Vladimir semplicemente scala meglio quando riesce a prendere un vantaggio Vladimir non è messo malissimo ma non è neanche messo bene l'intento di Riot è premiare quei casi in cui Vladimir riesce a prendere abbastanza vantaggio competitivamente questo tornerà molto comodo quasi sicuro sono convinto che non non andrà a rompere totalmente la solo queue più che altro saranno quei casi in cui allo elo prende molto vantaggio e quindi sei tipo lì beh merda doc questo tizio è tipo super snobolato perché riesce a fare quello che vuole beh perché ha avuto questo buff che se prende vantaggio beh fa quello che vuole è normale i campioni dovrebbero funzionare così se prendono vantaggio riescono a fare il loro lavoro non è facile per un Vladimir prendere vantaggio questa è la cosa chiave importante che molti devono tenere conto quando parlano di questa cosa di questa modifica a Vladimir il tutto si conclude così e quindi io sono qua che mi chiedo ma quindi ma porca miseria sono due patch in cui tutti i cambiamenti sono estremamente ragionevoli o quasi tutti cioè alcuni li guardi e dici magari non ne aveva troppo bisogno però era tanto che non bilanciavo nel campione e quindi dici ok ci può stare vedi Jin vedi Sivir cose di questo tipo dov'è il nerf l'unica cosa che mi chiedo è dov'è il nerf al Divine Sunderer il Divine Sunderer è tipo stupido ma proprio stupido basta lasciarlo così forte raga è ridicolo vedere che continuano a ignorare il problema nella stanza il Divine Sunderer un sacco di campioni sono tornati in meta soltanto perché il Divine Sunderer esiste e questa cosa non dovrebbe essere discorso a parte ma per il resto la patch 11.16 porca troia mettiamola semplicemente così sono genuinamente stupito non mi aspettavo queste queste modifiche wow però non risolve i problemi che state avendo di recente Riot cioè fare una cosa giusta non risolve tutti i problemi che ci sono così giusto per la cronaca lo metto qua alla fine così che tanto nessuno l'avrà sentito e quindi le persone che criticano dicendo che per chi ha guardato il video fino in fondo adesso quindi ragazzi sapete cosa scrivere? scrivete Haolini e Grasso se arrivate fino a qua grazie mille per il vostro tempo e noi ci vediamo al prossimo video grazie mille per il vostro tempo 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 Grazie.